Buonasera a tutti, questa sera siamo qui per la presentazione del nuovo romanzo di Simone Arrigoni, perché Simone Arrigoni? Simone Arrigoni è una giornalista novarese, siamo nell'ambito delle celebrazioni di San Gaudenzio, anche se quest'anno sono state un po' in tono minore, ovviamente data la situazione sanitaria e epidemiologica, anche le celebrazioni religiose sono state contingentate, in Novarese dell'anno non si è svolta la cerimonia di premiazione, ma comunque sia abbiamo voluto continuare a celebrare la nostra tradizione novarese, anche se un po' in tono minore e abbiamo voluto anche accompagnarla con tutte quelle iniziative collaterali che hanno sempre caratterizzato e contraddistinto questo periodo dell'anno per la cultura novarese. Nell'ambito di queste iniziative, questa sera andiamo a presentare questo nuovo romanzo di Simone, che ringrazio, con Rubini che farà un po' da mediatore, giornalista di Libero, che farà un po' da, diciamo così, da l'introduzione e dirigerà un po' l'orchestra di questa serata. Bene, grazie Sindaco, noi salutiamo ovviamente Simona Rigoni, che è la protagonista di questo incontro organizzato dal Circolo dei Lettori di Novara, il romanzo che andiamo a presentare è il tuo secondo romanzo Simona, Parla piano se parli d'amore, il titolo magari ti chiediamo dopo, io la prima domanda che volevo farti è questa, come è nata l'idea di mettere insieme tutti questi precariati? Cioè il libro, i protagonisti vivono un po' precari, un po' precari d'amore, un po' precari di lavoro, precari anche di sentimenti, insomma, come ti è venuto in mente di unire tutti questi precariati e intrecciarli? Guarda, tutti i miei romanzi, i miei scritti partono sempre dalle esperienze di vita reale che vivo ascoltando tutti i giorni con gli amici, i telespettatori di Aria Pulita e uno dei temi fondamentali di questo periodo, di questi anni è sicuramente il precariato, precariato nel mondo del lavoro, soprattutto in ambito giovanile, con anche dei dati drammatici, pensa che i net, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, ad esempio in Europa, noi deteniamo un triste primato perché sono due milioni, per cui c'è un grandissimo lavoro da fare sul mondo del precariato, dell'occupazione e poi è un aspetto, una parte dell'aspetto della vita perché la vita stessa è precaria, per cui ho voluto proprio descrivere il precariato in tutte le sue sfaccettature, nel mondo del lavoro, nel mondo della vita e nel mondo dell'amore, perché oggi c'è anche un precariato in un mondo del lavoro, ma alla fine si capirà che noi cerchiamo sempre delle certezze in una vita che di certo non ha nulla. Ecco, a questo proposito, una cosa che mi ha colpito leggendo il libro è questo, che tu parli di queste tematiche anche, come dicevi tu, drammatiche, perché comunque soprattutto nel precariato del lavoro, insomma è una questione drammatica, però la tua protagonista sembra, come dire, molto immersa nel tempo in cui viviamo, cioè non rassegnata, ma neanche come dire disperata, cioè ci sono dei lati della sua vita, del suo carattere che, come dire, emergono nel libro, che sono delle problematiche che lei durante la sua vita si porta avanti e tenta di risolvere, però ad esempio quella del lavoro tutto sommato, non voglio dire che è rassegnata perché non è vero, però in qualche modo è immersa in quella che è un po' la nostra realtà, bello o brutta che sia. Perché io volevo veramente descrivere un po' quelle che sono i giovani di oggi, che non si rassegnano, non si devono rassegnare di fronte all'incertezza del futuro, ma che si adeguano ai nuovi tempi e continuano ad inseguire, seppur in forme magari diverse, il proprio sogno con la forza della passione, perché i giovani non devono mai perdere questo. E allora sì che qualsiasi cosa si fa nella vita è comunque destinata al successo, cioè non perdere mai le proprie personali aspettative di fronte anche a quelle che sono le difficoltà. Cioè io dico sempre che di fronte alle difficoltà ci sono due possibilità, tu puoi scappare, quindi non affrontare i problemi, oppure puoi restare e raddoppiare la capacità di credere nelle cose o di amare. Io scelgerei sempre la seconda opzione. Io approfitterei della presenza anche del sindaco, sei d'accordo? Ma insomma, direi che è il padrone di casa, ma sì. Visto che stiamo parlando appunto di temi, mi riferisco ovviamente al precariato sul lavoro, non al precariato sull'amore, che per fortuna non è ancora, come dire, di competenza, di cui io sono campione, della politica e degli amministratori. Ecco, però questa problematica, lo dico al netto ovviamente del colore politico, del modo in cui si affronta, eccetera, è una tematica che anche voi amministratori sentite in maniera particolare, soprattutto in questo periodo drammatico che stiamo vivendo. Sì, addirittura sentiamo in maniera drammatica l'assenza di lavoro, non tanto il precariato, anche il precariato, che è un po' assenza sicuramente, il lavoro stabile perlomeno, no? È un tema che ormai in Italia sta caratterizzando il nostro panorama economico e sociale da tantissimi anni. Non stiamo qua a indagare le cause e le radici di questo problema che sono sicuramente molteplici, però comunque sia sicuramente un problema che sta veramente minando alla base la tenuta anche sociale, se vogliamo, familiare, la capacità di costruire rapporti, legami solidi e anche e soprattutto l'aspetto demografico. C'è da sottolineare anche questo aspetto, perché è evidente che i giovani se non riescono a costruirsi un futuro certo e solido dal punto di vista economico e lavorativo, fanno più fatica a mettere radici dal punto di vista relazionale. È quindi un grosso problema che va affrontato da un punto di vista amministrativo solo e non soltanto in un modo, cercando di creare condizioni economiche sui territori che possano garantire il più possibile la capacità del territorio di esprimere investimenti che diano opportunità lavorative stabili. Questo è il grande lavoro che le amministrazioni dovrebbero tutte fare. Certo, poi ci sono anche tanti aspetti di natura macroeconomica e nazionale che incidono su questo, però sicuramente un buon amministratore con una visione deve cercare di fare il possibile affinché sui territori atterrino più risorse e investimenti possibili per aprire possibilità occupazionali stabili e a tempo indeterminato. Solo in questo modo si possono non soltanto garantire nel medio-lungo periodo crescite familiari stabili al di là degli aspetti emotivi, personali di chiunque, ma si possono creare le condizioni anche di invertire quel trend di decrescita demografica sul quale il nostro paese, ma anche tutto il mondo occidentale, se vogliamo, è caratterizzato da questo e questo è un grosso problema, un grandissimo problema. Poi comunque Simone è molto brava perché ovviamente nella sua attività di giornalista ha una sensibilità particolare per le tematiche sociali, cerca sempre di andare a fondo delle questioni parlando direttamente con le persone, perché poi è questo l'aspetto più importante, tu le cose le riesci a capire bene cercando di avere un dialogo continuo e costante e cercando di approfondire quali sono le ragioni delle problematiche sociali e lei ovviamente ha un punto di osservazione privilegiato che è la sua trasmissione che continuamente fa aria pulita e che le consente di parlare, di avere un dialogo diretto con le persone, di capire a fondo, alle radici, quelli che sono i problemi della nostra società. Ecco, a proposito di aria, una domanda che riguarda in parte anche aria pulita, se ti spiego, perché tutti fanno, uno che presenta un libro deve fare questa domanda, se no non vale, che è quanto di tuo, cioè di autobiografico c'è in questo libro. Allora, io ti anticipo già che c'è almeno una cosa che io ho trovato assolutamente di autobiografico, credo che anche il sindaco mi possa, come dire, supportare in questa mia analisi ed è quando la protagonista, praticamente due pagine sì e una no, si ferma a farsi fare 18 fotografie, poi le guarda, le controlla, perché tutti noi che siamo stati ospiti di Simona in trasmissione, voi alle 9, meno 10, 9, meno un quarto, quando finisce la trasmissione, si spengono le telecamere e voi pensate che la cosa sia finita lì. Hai fatto ridere, dietro le quinte non vedono, hai fatto ridere anche Paola Turchelli del Circolo dei Lettori, che ringrazio per l'ospitalità e sempre la vicinanza che dà ai 20 e alla cultura, devo dirti che è così, infatti so che è il tuo momento preferito della trasmissione, ma soprattutto quello del sindaco, il sindaco quando veniva ospite, adesso non viene perché possiamo fare solo i collegamenti via Skype, ma non vedeva l'ora di avere la fotografia di Rito, so che le manca molto. Bagnavo. E poi soprattutto l'esame dopo, perché poi Simona si mette lì, guarda tutte le foto, le fa rifare quelle che non sono fatte bene, quindi più o meno usciamo dagli studi verso mezzogiorno, a parte questo momento che però è vero, quanto c'è di autobiografico? Ma c'è sempre tanto, in ogni libro credo che ci sia molto di autobiografico, credo che qualsiasi scrittore trasporti poi delle emozioni o un vissuto, è un libro che io ho dedicato a mia mamma, è un libro che per me è molto importante perché mia mamma è scomparsa quattro anni fa ed è stata ed è, sarà sempre la figura più importante della mia vita, e infatti ho scelto di aprire il libro con una lettera a testamento della mamma, della protagonista che sta per morire, dicendo ovviamente completamente diverse, però lì ho un po' immaginato quello che mia mamma mi avrebbe detto e quello che mia mamma in parte prima di morire mi ha detto. Allora io ho scelto di dedicare questo libro con una frase che è la frase con cui io la penso tutti i giorni, io dico sempre a te mamma che mi cammini dentro. Bene. Il titolo? Parla piano se parli d'amore. Il titolo è, non perché è il mio titolo del romanzo però è stupendo, io l'ho scelto e si è innamorato subito anche il Roberto Cicala di Interlina Edizione di questo titolo, non è mio ma magari l'avessi fatto io, è una frase che viene ripetuta molto in una commedia molto famosa di Shakespeare che è molto rumore per nulla ed è particolarmente significativo perché quando parliamo di sentimenti, noi spesso lo facciamo a sproposito, utilizziamo frasi veloci, magari anche di impulso, non ci accorgiamo mai di ferire i sentimenti dell'altra persona, mentre l'amore ha bisogno di silenzio, delicatezza, di rispetto e allora parla piano se parli d'amore, poi il filo conduttore di tutto il romanzo perché verrà ripetuto più volte dalla protagonista quando litiga col suo amore di sempre, Aurora e Alessandro sono i protagonisti e quando è lei glielo dice continuamente, è un mantra, un mantra che la seguirà in tutta la sua esistenza, poi ci sarà un finale perché è particolare, sempre legato proprio alla frase. Ecco a proposito del finale non ve lo raccomando ovviamente perché se no non comprate il libro che va assolutamente letto, però devo dire che anche, vi terrà veramente incollati fino alla fine e anche il finale come dire è da leggere, ecco non dico nient'altro perché sennò poi magari roviniamo la lettura, non è scontato ed è da leggere, rispetto proprio quello che stavi dicendo adesso, allora noi prima abbiamo parlato del precariato sul lavoro dicendo appunto che probabilmente ci sono anche delle situazioni sociali, anche le parole del sindaco prima, che in qualche modo hanno cambiato il modo di intendere il lavoro e quindi in maniera probabilmente come dire maggiormente penalizzante per chi si affaccia in questo momento sul mondo del lavoro, ma in qualche modo sono i cambiamenti sociali che hanno portato a questa situazione. Secondo te c'è un cambiamento sociale invece anche nella precarietà di quelli che sono i sentimenti? Cioè è come dire che non necessariamente in chiave negativa, ecco c'è però un cambio di come si vive, come si vivono le storie d'amore oggi? Le storie d'amore sono un po', il sindaco prima diceva, io sono un rappresentante di quello che è il precariato d'amore e in realtà non è precariato, in realtà è vita, noi confondiamo il precariato, quindi questo vale nell'esistenza, vale nel lavoro, vale nell'amore, come qualcosa di negativo. In realtà va vissuto con un'ottica diversa, cioè il precariato dovrebbe essere, doveva essere, se parliamo dell'aspetto lavorativo, quello che un tempo veniva definita flessibilità. E allora noi non abbiamo sbagliato, non so come, poi ci siamo mossi con delle politiche del lavoro pessime creando un dilagante precariato, ma in realtà una cosa ottima era quello che Biagi intendeva, cioè ovvero il lavoro flessibile e così anche l'ottica dell'amore, cioè l'accettarsi, l'accettare che magari non esista il per sempre, ma il per sempre fatto di tanti momenti, di tanti presenti quotidiani che poi nel tempo diventano davvero una quotidianità e un lessico tra due persone che possono vivere in quello che è il rispetto della libertà reciproca. Io intendo questo come precariato dell'amore. Senti, Simona, a questo punto io ti chiederei, se tu hai voglia, di magari leggere un brano del libro. Allora, sono in difficoltà, non so cosa fare né cosa dirti, non so neanche cosa voglio da te, cosa mi puoi dare e che cosa ti posso dare. Mi sono presa del tempo per riflettere, non capisco neppure cosa provo per il compagno che fino a ieri pensavo di amare, so solo che tra me e te esiste qualcosa di indefinibile che non si spezza davanti a niente. Siamo sempre in fuga, ma non ci allontaniamo mai. Sono precaria nel lavoro e adesso scopro di esserlo anche in amore. Che bel finale, vero? Direi che siamo tutti precari in questa vita e che le certezze sono una grandissima cazzata. Non c'è una cosa giusta e una sbagliata. Se tra le insicurezze e la paura ci mettessimo semplicemente la vita, le piace, Sindaco? Bello, è passato. Un altro tema che tu tocchi nel libro, oltre a quello dei due precariati di cui abbiamo parlato fino adesso, è anche quello del viaggio. Cioè la tua protagonista per proprio motivazioni di lavoro, anche di scelta di vita per allontanarsi da situazioni che in qualche modo le vanno strette e quindi cerca di uscire e di rifarsi una vita, di rilanciare in qualche modo la propria vita, viaggia molto. Ed è un tema che tocchi tu in questo libro, anche facendo in qualche modo vedere alcune delle bellezze del nostro paese, alcune città particolarmente importanti. Posso dire che Fabio Rubini è fantastico. Io non potevo avere un moderatore migliore. No, lo so, lo so. Non solo ha letto, ha colto le cose che per me sono importanti. No, e ti faccio due domande in tutto questo. La seconda cosa che ti faccio è perché in un momento dove tutti quanti quando partono vanno a Londra, New York, Parigi, che ne so, tu invece hai scelto di ambientare questo tuo libro tutto in Italia. Libro che hai scritto, perché se no non vale te la cavi con due parole, prima della pandemia. Vero. È troppo facile adesso. Allora, il libro ha più scopi, è un progetto editoriale. Adesso io non so se sono riuscita, io mi auguro nell'intento di fare questo, perché poi attraverso una storia d'amore cerco di toccare tanti temi. Il primo, quello della cultura, che per me è importantissimo, la valorizzazione della cultura, tant'è che la protagonista, in tono molto semplice, in punta di piedi, amando lei molto la letteratura italiana, citerà tanti autori, tra cui anche i più importanti della letteratura italiana, con delle frasi che restano e ci fanno riflettere, che promuovono il valore dei libri e della cultura in un momento storico in cui ne abbiamo un grande bisogno, perché la cultura è essenziale. Così come la valorizzazione del nostro patrimonio storico, architettonico, culturale, paesaggistico lo è. Per cui la protagonista viaggerà in prima battuta a Londra, perché fugge, fugge da tutto e quindi va a Londra, fa un'esperienza all'estero, ma poi sceglie volontariamente e consapevolmente rimanere in Italia e va nella culla della storia italiana, quindi va a Roma, va a Firenze e fa anche un viaggio a Populonia. E non ho scelto a caso queste località, perché le ho scelte in base anche a dei riferimenti letterali paesaggistici, sono andate anche lì, proprio personalmente, quest'estate a fare tutto un tour delle località di cui avrei parlato nel libro. A Populonia c'è ad esempio lo sviluppo della civiltà etrusca ci fu e quindi anche il concetto di un altro aspetto della vita di cui si parla poco perché si ha paura, però è vista anche qua in maniera positiva, che è la morte. E lì verrà toccato questa tematica. L'Italia è un paese meraviglioso, ci sono anche, sindaco, una valorizzazione del Piemonte, con anche delle storie, per esempio che noi abbiamo qua vicino a Devero, dove possiamo proprio vedere, ad esempio la storia del laghetto, un laghetto delle streghe, quindi entriamo dentro i nostri territori, il nostro Piemonte e vedi leggende, le montagne, tutte le nostre zone. Io credo che sia importante che un libro tocchi con mano il quotidiano in tutti i tre aspetti. Bene, nello scrivere questo libro quanto ti è servito il lavoro che fai? Cioè il fatto di, come diceva prima giustamente il sindaco Canelli, tu sei in tutti i giorni a contatto con le persone, non solo gli addetti ai lavori, chiamiamoli così, cioè i politici, i colleghi giornalisti, eccetera, ma anche proprio con le persone del popolo, i cittadini comuni che non hanno particolari incarichi nella società, ma che vivono invece le problematiche della società tutti i giorni. Tu trai in qualche modo ispirazione? Completamente, tu fai conto che, poi il sindaco conosce anche bene queste tematiche, il papà ad esempio della protagonista di Aurora è un uomo con più di 50 anni che vive il problema della crisi aziendale, per cui perderà il posto di lavoro nel momento stesso in cui perde anche la moglie, per cui si ritrova di fronte a una situazione drammatica che non riesce ad affrontare, quindi cadrà vittima dell'alcol, quindi c'è un po' il problema in sottofondo dell'alcolismo, ma anche del gioco, quindi delle slot machine. E questi sono temi che purtroppo bene, sindaco, conosciamo sul territorio. Sì, sì, ma infatti l'ho detto prima, è un romanzo che comunque sia tocca tantissimi aspetti della vita quotidiana, quindi è molto agganciato alla vita quotidiana. Il tema della ludopatia, il tema della perdita del posto di lavoro, il tema della rete di sostegno del welfare territoriale, sono toccati come argomenti all'interno di questo romanzo. Quindi complimenti a Simona che comunque sia riuscita a confezionare un ottimo romanzo. Cos'è il terzo questo qui? E il secondo, poi il terzo è un libro scritto in colore. Te lo chiedo dopo il terzo. Simona, allora, abbiamo parlato della mamma della protagonista, con anche i tuoi riferimenti, come dire, autobiografici. Della protagonista. Del papà della protagonista, manca il protagonista maschile. Possiamo dirlo. C'è anche la sorella della protagonista. È vero, c'è anche la sorella della protagonista. No, posso dirti, ti racconto questo aneddoto. Adesso, voi non l'avete, ma dietro alla telecamera c'è veramente quella che è la mia migliore amica, ma una sorella, magari non naturale, ma di fatto lo è. E tutti i nomi che vedete all'interno di questo libro sono i nomi della famiglia della mia migliore amica, che si chiama Daniela, e quindi ho preso tutti i nomi. Che saranno contentissimi. Hanno preso tutti il libro. E quindi adesso a casa della mia amica Daniela si legge. Quindi hai venduto quattro coppie. Non è vero. Guarda che ci cala se ti senti il sindaco. E quindi, no, ti dico, questa è una curiosità. Non svicolare la domanda, ma la domanda è. Poi arriva, come dire, un po' l'infamone, no? Che fa un po' la parte dell'infamone. Guarda, Alessandro, che è il protagonista maschile, è un spregiudicato, è un po' un fetente, la tradisce sempre, non vuole la storia seria, la lascia lì. Però nel momento del bisogno Alessandro c'è sempre. E c'è questo filo conduttore tra i due protagonisti che sembra molto fragile, molto sottile, ma in realtà è un cavo d'acciaio tra i due. Quindi oltre dieci anni di rapporto fluttuante dove lui va all'estero e farà carriera all'estero quello che non riesce a fare in Italia. Perché dice, voglio andare all'estero, voglio guadagnare un sacco di soldi, voglio fare carriera nel mondo economico e finanziario, e va all'estero e ci riesce. Però non riesce a costruirsi una storia d'amore perché passa di fiore in fiore, non dimenticando però mai la sua Aurora, ma senza mai dargli la soddisfazione di dare quella storia che Aurora in realtà cercava da sempre. Però Aurora comunque... Aurora si dà da fare, no no, Aurora è lì, però si dà da fare, non è una vittima di Alessandro. No, però appunto, perché adesso giustamente dobbiamo anche un po' per orare la causa maschile in questo libro perché altrimenti veramente non ne usciamo più. Fabio, a me guardavo la faccia di Alessandro e ho una storia d'amore che è particolarmente interessata. Cioè, come dire, è vero che Alessandro vola di fiore in fiore ed è appunto, come ho detto prima, un po' l'infamone della storia. Un eroe. Però c'è anche da dire che tutte le volte che torna non è che Aurora ci si gira dall'altra parte, come dire. No, perché lei spera sempre che il suo Alessandro negli anni sia in qualche modo cambiato, però non cambia mai. Lei a un certo punto però si ribella questa cosa e dice adesso prendo in mano la situazione e sarà un po' Aurora 2.0. Adesso basta, non mi faccio più rovinare i sogni da Alessandro che li ha determinati fino adesso, quindi facendola soffrire, ma sarò io a prendere in mano la mia vita e quindi a puntare su se stessa e nel momento stesso in cui Aurora veramente punterà su se stessa, sul lavoro, sulle passioni e su quello che vuole fare nella vita, allora anche il rapporto con Alessandro sarà visto in una chiave di mezzo. Però questo qui secondo me è un messaggio molto importante, perché nelle condizioni in cui è Aurora la protagonista del romanzo, io faccio il sindaco e dovrei occuparmi d'arto, ma facendo il sindaco mi occupo praticamente anche delle questioni amorose dei cittadini che molto spesso vengono anche a lamentarsi, litigano in famiglia. Ma ci sono tantissime donne, tantissime donne che sono tra virgolette un po' succubi della situazione familiare ed è il rapporto squilibrato all'interno della famiglia o col proprio compagno. Ecco, il messaggio che lancia questo romanzo è importante anche da questo punto di vista, cioè una donna se vuole veramente, diciamo così, crescere da un punto di vista personale, slegarsi da quelle che sono, diciamo così, le catene che la rendono anche infelice all'interno di un rapporto in cui è costretta, deve prendere consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, deve cercare anche, diciamo così, di non andare sempre dietro all'infamone di turno, se vogliamo. E questo è un messaggio molto importante che lancia questo romanzo dal mio punto di vista. Quindi secondo me è anche un po' educativo. Sì, quasi un libro al cuore. Ah, visto, dopo vicino al cuore. Però è vero, sono d'accordo con quello che dice. Allora, cioè io non so se, come dire, se esiste davvero, come hai detto tu, che hai preso i nomi della famiglia, della tua amica, non so se c'è davvero questo Alessandro, cioè diciamo che però è un personaggio inventato. Alessandro è il mio nome, no, è assolutamente un personaggio inventato, è il mio nome preferito. E Aurora? Aurora è la figlia di la mia migliore amica. Perfetto, abbiamo sistemato tutto. Vedi, questo... Il cerchio si chiude. Simona, ho un po' paura di farti questa domanda. Sintiamo, aiuto. Potrebbe anche essere quella conclusiva di questo incontro. A cosa stai lavorando? Perché hai paura di farmi questa domanda? Perché di solito quando ti faccio questa domanda la risposta dura dai 25 ai 45 minuti. Eh, non so, da dove vuoi che parto. No, partiamo, tanto hai, come dire, già in embrione, qualcos'altro. Allora, ho un progetto, un altro libro. Però la mia migliore amica, che purtroppo ha un'influenza su di me notevole, mi sta facendo pressioni per cambiare l'idea del libro. Però adesso vediamo, perché mi ha dato una chiave di lettura, quindi ancora non ti dico niente. Però, insomma, in cantiere ci sarebbe anche un terzo libro. Ci metto un po' di tempo però per farlo, perché oggettivamente non sono più ore disponibili. Li ho occupati tutte, però diciamo che per quanto riguarda i libri c'è in cantiere quest'idea. Poi c'è una nuova esperienza radiofonica, che per me è molto bella, che ho appena iniziato, su Rai So Radio, colazione da Simona dal lunedì al venerdì. Dove c'è sempre questo rapporto diretto con i cittadini e dove veramente sono contenta di fare questa esperienza perché è un servizio pubblico a tutti gli effetti. Insomma, se avrete modo di sentire questa trasmissione, spero che ve ne possiate accorgere. Poi c'è l'aria pulita che è casa, quindi neanche da dire, ma c'è anche molto altro. Non posso dirti ancora niente. Sappi che c'è ancora molto altro. A noi ci fidiamo sulla parola. Sì, poi il sindaco è contento. Tu non sai che il sindaco è molto contento delle mie esperienze lavorative, dove lui di solito viene coinvolto e non vede l'ora? Esatto. A proposito, la settimana prossima, lei e Rubini, ospiti Rubini, so che è puntualissima anche lei, dico no, no, no. Va bene. Bene. A me non resta che dire a chi ci ascolta, tanto ringraziare il sindaco per la sua presenza, ringraziare Simona per il libro e per avercelo raccontato. A me non resta che dire una cosa. Allora, io questo libro l'ho letto e si legge veramente in maniera molto fluida, è scritto molto bene, vi tiene veramente incollati fino all'ultima pagina, come abbiamo detto prima, con un finale da leggere, assolutamente. Come ho detto prima, non è un libro che abbiamo fatto tutta questa cosa sulla precarietà delle cose, però ecco, è raccontato, questa è una cosa che mi è piaciuta molto, in maniera molto leggera, molto serena, come dire, cioè non è la protagonista che non vive più perché è precaria, che non vive più perché non ha una storia d'amore o perché magari ce l'ha sbagliata, cioè è tutto, come dire, in chiave positiva, come poi è Simona nella vita di, almeno quella professionale, di tutti i giorni. Quindi a me non resta che appunto ringraziare ancora tutti quanti e ringraziare il Circo dei lettori di Novara per avermi invitato e per questo appuntamento e ovviamente non mi resta che chiudere dicendo a te che stai ascoltando questo incontro parla piano se parli d'amore. Grazie. 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 Grazie.